Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! A me piace più Blackjack, raga, di sta roba. Però se paga, sti chazzi. E allora? 95,96. Ma minchia, ci sei. Madonna, 3K ti porti. Di più, bro. Questa musichetta gloriosa, bro. Sì. Usch, usch, usch. Agnale e patate arrosto. È una canzone, signori di Twitch. Lui è un artista. Un artista, Twitch. Ovviamente ci scostiamo. Non si può dire quella parola su Twitch. Non si può? Scusa. La n-word, bro. Ah, la n, ok. Scusatemi, scusatemi. Vabbè, comunque l'ha detta in una canzone, quindi era... Scusatemi, ragazzi, non sono professori di Twitch. Ok, l'ha detta in una canzone, quindi non era a scopo razzista, assolutamente. Era per promuovere l'arte. Ok, finora. Ok, ok, ok. E grazie. Non rin dónde ti pute. Ok, allora. unfortunately, b quindi che vissi. Ah, c'è tutto, c'è tutti i cartelli in casa Bro, perché se faccio casino mi denuncia Ragazzi, c'ha tipo gli avvisi, le denunce appese sul muro Ma perché se faccio troppo casino mi denuncia Mi ha già chiamato la polizia una volta Perché tu qua confini con uno Sì, sì, che lavoro Vedi, tu dovresti avere una casa come la mia Io sono all'ultimo piano nell'attico E intorno non c'è un cazzo di nessuno Eh, menchia comodo Comodo, parco Così se c'è Ma qua, a fianco c'è uno Sì, qua dietro Qua dietro, qua dietro Eh, ma adesso possiamo parlare Però fossero, fossero, va bene, scusate Siamo un alfabeto, sono un alfabeta Sono un alfabeta Morta, c'è Cristian Cristian si sta guardando Mi ha scritto un messaggio Cristian Che è Cristian? No, un ragazzo buono Mi ha scritto del live con Una tua vecchia fiamma? No, non ho idea neanche Di quale sia la sua faccia Ma come lavoro Cristian? L'ho conosciuto su Telegram Ah, su Telegram Ma perché conosci le persone su Telegram tu? Non mi ricordo Sono troppi anni fa Troppi? Quanti? Tra Due Due, non so, troppi Ma Un'altra Vabbè, abbastanza anni fa Un'altra domanda, Antonella Tu sei pro o contro al sexting? Eh, giacca stile Blackjack, raga, esatto Una cosa ignorante Glory È un mio amico, bro Io sono di Rozzano Grande Ma da fine ci ha fatto adesso 23 anni, Pachi Giovane Ma va Sono anche più piccolo, sai, ti dico Anch'io Però è 23 Spacca Io sto tutto Io sto tutto Dentro Io sto dentro questa gioco, bro Certo Che cazzo è? Che cazzo è discounted cash flow? Tutti vogliamo sapere cosa tratta di Egao? No, vuoi saperlo solamente tu Mike Nerazzurro Non c'ho voglia di far parlarne in live Se c'è a risolvere farlo Ok E lo può fare In Italia c'è una legge un po' di merda Quindi se è un pezzo d'arte lo puoi fare Quindi io vendo in galleria O a privati Però non posso commercializzarlo sul mio shopping Sostanza Chiaro Però vabbè Non puoi renderlo Però lo fatturi quello che Sì, 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 no, quello tutto Ma sono vere No, no, le armi sono da Softair, raga Ovviamente no, vere E invece Bella domanda questa del Riccio Conosci Sex and Dreams? No Chiedo come uno come Mr. J possa collaborare con Tony Tubo Boh Con tutto il bene di questo mondo No, sto scherzando Tony tu Ti sta perculando Tony? Ah Tony Ma non percularci Ma mandaci 50 sub Con il tuo Con il tuo Con la tua Max Win Alla Starlight Bro Ah no, scusa Ah no, scusa Scusami bro Bro, ma non è Madonna 3k ti porti Di più bro 5.600 5.600 Non ci credo Facciamo Startup 5 Chi è che ti scriveva in chat Che non era possibile Portarseli Non ci credo Ma di che stiamo a parlare Saldo reale non sarà mai 5.000 Adesso vediamo raga Adesso vediamo Speriamo Io ci spero di brutto Facciamo bet 20 bro Dai vaffanculo Rigiriamo velocemente Sti soldi Ma che divide raga Si ritiene lui Cazzo dite Ma a casa bro Come ti fa a casa Sto usando le macchiette Ciao Michelle con una mica Preso con un'altra tipa Si è chiamata con Michelle Che aspetta Monte la salute Bello No Porco Dio Porco 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 Dio Ciao Michelle Assurdo Tu conosci Paolo Fregna Colin No Ah ok È uno streamer rumeno italiano Che va in giro in Romania A molestare le ragazze rumene Non lo conosci Vabbè dai Non si chiama Paolo Fregna Ma a dubito ti escerà qualcosa Perché è molto di nicchia Come personaggio Però se cerchi su youtube Forse c'è qualche suo video Paolo Fregna Personaggio un po' mistico The web Oddio Oddio Che l'hai preso Così a cazzo Bro 3.000 Non ci credo Bro Devo rigirare Adesso devo rigirare tutto il bonus Frate Devo rigirarlo tutto 3k così Oddio raga Oh madonna puttana Ultima vincita Oh madonna puttana Aspetta raga perché fa un bonus questo Non so Ho preso 2.500 euro Cazzo Sì sì Però stavo giocando con Mico E Vedrà anche il suo Col bonus lì Quindi qua abbiamo smezzato Però abbiamo sbancato Perché li rigira le slot Eh ma come li rigiri Se no Cioè Allora ragazzi Se vuoi mi dite di andare Che cazzo ne so Al Ok bono Mi dite di andare alla roulette Se tu vai alla roulette I soldi non li rigiri Un giro di roulette Ti rigira meno dello 0,10% Ok quindi Io vorrei disegnare Poi Gabbro Ehm 8 meno Ok sono sopra di 1 Mi piace perché comunque Mi sembra un naso Di un grande sciatore Però comunque è dritto Naturalmente Mi sembra un naso Greco Dovevi dire È un po' greco È un po' greco Come naso Sì sì Ecco Ok raga Io ho votato Ok 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 Chi tocca? Io do 8 Daddy E 7 Beh Cuno però Cazzo Lei potrebbe Tipo ribaltare La situazione Penso che Matilde Rivarti la situazione Non ribalterò Un cazzo Ribalterai un cazzo? No Non ribalterò Un cazzo Cazzo che avrei dato Adesso un altro Che a lui 2 punti e mezzo Il fai entrare Il gabrosca Entrare il fai entrare Il gabrosca Ma chi è? Cuore Cuore Mi sto prendendo paura Ma chi è Su gabrone? Fai entrare il gabrone Vincenzo Grazie E non conosco Nessun gabrone Che cos'è Su gabrone? Scusami C'ho paura Come l'ho chiamato E sto gabrone Gabrosquischi E ieri è andato Con una Che poi si è rivelata Che era uno Veramente? Eh sì Ma lui era tutto fuori Della colamaro E Non si è ne accorto Il giorno dopo E l'ha preso in culo? L'ha preso in culo Però Però adesso Sa che non mi piace Dio cane Eh bro La chiamata ce l'ha avuta te Dio cane bro Abbiamo vinto il mondiale Brudi Abbiamo vinto il mondiale Brudi Abbiamo vinto il mondiale Brudi Porco dio Quanto siamo lì saldo? A 1.5 Detti Ma non da nulla bro Siamo ritornati Alle stelle Dio cane Bello Bello Bisogna pure spinnare Fai partire tipo il dito No bro Giochiamo Giochiamo alla Basta quelle che hai già giocato però Cambiamo Spin e score mega ways Pragmatic Giochiamo 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 Giochiamo